La mia prima visione l'ho maturata nei banchi di scuola da adolescente. Volevo diventare un piccione viaggiatore. Sì, un piccione viaggiatore. Un piccione viaggiatore nella mia terra, il Veneto, era considerato una persona che prendeva la valigetta e andava in giro per il mondo a fare affari, a trovare clienti, a sviluppare il business di piccole e medie imprese. E io quello sognavo di fare, lo sognavo veramente con tutto me stesso. Volevo andare in giro per il mondo e riempirmi di esperienza. Così dopo gli studi sono riuscito a farlo. L'ho fatto addirittura per dieci anni, tre aziende diverse, settori manifatturieri, laddove si produce qualcosa di fisico e lo si va poi a rappresentare, a vendere in tutto il mondo. Questa era la mia prima visione, il primo sogno. 200 missioni commerciali all'estero. Poi ad un certo punto di questo viaggio, ai due terzi di questo viaggio, sono andato nel vocabolario a vedere cosa voleva dire fare il manager che stavo facendo. E quel vestito non me lo sentivo più addosso. Per cui mi sono messo in testa, in tutti i sensi, di andare in California, di mollare tutto, lasciare il mio lavoro e andare ad inseguire una nuova visione, completamente diversa, che partiva da radici italiane, il gelato artigianale. E lo voleva portare negli Stati Uniti, nella California, che io immaginavo come una terra dinamica, una terra di grattacieli, velocità internazionale, ma anche una terra di lifestyle, una terra di spiagge e tavole da surf che uscivano dalle auto. Ho lasciato tutto, sono andato in California, sono andato a Los Angeles con un paio di soci finanziatori. Mi sono ben presto però accorto che questo viaggio, questo volo non sarebbe mai decollato. Avevamo fatto qualche valutazione sbagliata, eravamo di fronte a un fallimento. Ho fallito, ho perso tutto quel poco che avevo, tutte le mie risorse, tutti i miei soldi, e ho cominciato a sentire una sensazione, un'emozione di paura. Una paura perché ero andato fuori dalla mia zona di comfort, assolutamente. Avevo lasciato il certo per l'incerto, avevo inseguito una visione, ma mi ero accorto di non essere atterrato in un posto, in una pedana, in una postazione che riuscivo a dominare. E pensate il paradosso, il primo paradosso di questa esperienza. Il paradosso è che ero nella terra che ascolta, capisce, comprende, giustifica e addirittura premia il fallimento. E cosa ho fatto in questa situazione? Sono rientrato nella mia zona di comfort. Sono tornato in Italia, sono tornato dalla mia famiglia, sono tornato in un paese che accetta meno, spesso marchia il fallimento come un qualcosa di negativo. Questo è un po' un paradosso. Sono tornato e non stavo per niente bene. Ero down, ero triste, come si dice. E ho avuto un'ispirazione, un'altra visione. Cioè quello di ricaricare le pile per ripartire andando a dare a qualcuno che aveva qualcosa meno di me. Ho preso un volo di sola andata e sono andato per due mesi in Brasile a lavorare con una comunità di bambini di strada, a insegnare a loro l'inglese e a ritrovare il sorriso. Poi è successa un'altra cosa interessante che sono tornato in Italia a cavallo tra il 2004 e il 2005 in un momento pazzesco perché se voi vi ricordate in quello stesso periodo in Silicon Valley nasceva e si spostava Facebook che poi è diventato quello che oggi giorno sappiamo una delle aziende più interessanti, più ad alto tasso di crescita, più capitalizzate nel mercato. E succedeva questo nel mentre in cui io invece che prendere un aereo da Los Angeles a San Francisco un'ora di volo e andare a magari applicare e provare a lavorare per un'azienda come questa, ne ho fatte dieci per tornare a trovare un lavoro vecchio. Sono andato a trovare un lavoro vecchio però con una mentalità nuova. Avevo sbagliato, ero fallito, ma nei successivi cinque anni continuando a fare quello che facevo prima, cioè il piccione viaggiatore, ho anche maturato delle nuove idee. Avevo maturato la consapevolezza che i miei colleghi erano tristi. Non amavano quello che facevano, andavano a lavorare per la fine del mese, per prendere uno stipendio. Andavano a lavorare privi della capacità di autoesprimersi, di esprimersi e di trovare impatto in quello che facevano. Per cui in maniera molto semplice ho pensato ad uno slogan, Smile at work, sorridi mentre lavori. Trova il modo di farlo. E con un professore di Parigi che insegnava ad una scuola di business Management delle idee, il professor Isaac Goetz, siamo andati a sviluppare un progetto basato sulla promozione del management delle idee alle piccole reti di imprese. Questo progetto si è sviluppato, ha vinto dei premi anche a Bruxelles, in Europa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.